Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. Il Cagliari è sul punto di aggiungere un rinforzo importante alla sua difesa, avendo già raggiunto un accordo con l'Atalanta per il trasferimento del difensore José Luis Palomino. La trattativa tra i club è stata conclusa, e ora il Cagliari sta cercando di finalizzare i dettagli con il giocatore argentino. Il tecnico del Cagliari, Ranieri, ha individuato in Palomino l'esperienza e la qualità necessarie per rafforzare la linea difensiva della squadra. Con l'accordo sulla tassa di trasferimento già raggiunto tra i club, l'attenzione è ora rivolta alla negoziazione del contratto con il giocatore. Secondo le informazioni dell'Unione della Sardegna, è stato offerto a Palomino un contratto di due anni, con l'opzione di rinnovo per una terza stagione. Questo approccio mira a garantire la stabilità del giocatore nella squadra e permettergli di mostrare tutto il suo potenziale durante il periodo contrattuale. E voi tifosi rosso-blu, pensate che Palomino sia un buon rinforzo per la difesa? Lasciate la vostra opinione nei commenti poiché è molto importante per il Cagliari.